ben ritrovati a questo ciclo sulla transizione energetica allora oggi parliamo di batterie e in generale delle materie prime necessarie per fare la transizione energetica e do immediatamente la parola al professor al maroli del cnr nostro attente di ricerca pubblico e poi aggiungiamo alcuni dati il partner del volto voltaico sono appunto le batterie la capacità del 2022 ragone 16 teravattora a livello mondiale che sono 48 milioni di batterie come casa mia e 23 come la mia auto in proiezione al 2027 il mondo arriverà a produrre 9 teravattora di batterie che in prospettiva abbiamo dobbiamo aumentare l'estrazione di litio andare oltre al litio espandere la capacità globale l'avrò toccato 800 volte 9 teravattora è un numero grande o piccolo pensate che negli stati uniti per avere 100 per cento rinnovabile la proiezione che avranno bisogno di 6 teravattora di stoccaggio al 2050 quindi 9 comincia a essere un numero interessante al 2027 a livello mondiale quindi qui sta cambiando tutto ne avremo a sufficienza 10 anni fa pensavamo di avere 23 milioni di tonnellate di litio adesso sappiamo di averne quattro volte tanto perché ci serve lo andiamo a cercare lo troviamo le riserve sfruttabili sono 26 milioni di tonnellate se mettete 8 kg dentro ogni auto che è quello che si può stimare mediamente oggi dalle riserve stimabili possiamo produrre circa 3,2 miliardi di automobili furgoni oggi ne abbiamo 1,4 quindi non sono numeri lontani non c'è l'idea che non avremo abbastanza litio poi è fattibile dipende da tanti fattori se troveremo altro litio se cominceremo a riciclare se arriveranno quelle al soli eccetera le batterie a litio sono di diverso tipo quindi parlare fare un calderone unico non ha senso c'è le batterie nickel manganese cobalto litio ferro fosfato che sono quelle in crescita che hanno il 30 per cento del mercato e che dominano nel settore dei veicoli pesanti in un confronto pratico due macchine che hanno la stessa batteria da 50 kilowattora queste due questa è una batteria nickel manganese cobalto a circa 50 kg di nickel manganese cobalto questa che è litio ferro fosfato che è la mia nella fattispecie ne ha 0 e ha 37 kg di ferro che non è proprio un problema quindi capite che quando si parla anche qui si fanno considerazioni molto molto generiche abbiamo quali fonti e tecnologie bene fermiamoci qui rimettiamo un attimo le slide e prima di darvi qualche dato ulteriore di facciamo una premessa ovvia ma sempre da sottolineare e cioè che nel mondo dell'elettronica delle rinnovabili delle batterie la situazione può cambiare parecchio con l'arrivo di nuove tecnologie quindi si accennava alle batterie il sodio che potrebbero sconvolgere parecchio il mercato ma potrebbero arrivare molti altri tipi di batterie dal momento che tutte le grandi case sia costruttrici di automobili sia di elettronica in generale stanno investendo moltissimo per sviluppare batterie che siano molto leggere ma anche con grande capacità appunto di accumulo quindi parlare in proiezione è estremamente difficile perché potrebbero arrivare nuove tecnologie che soppianterebbero quelle precedenti però vediamo di sollevare diciamo un po di fare un po di chiarezza su quelli che sono che sono i principali preoccupazioni di chi è preoccupato scusa della ripetizione dell'ambiente innanzitutto il discorso del riciclaggio allora teniamo presente che in italia da decenni circolano milioni di autovetture con motore a scoppio ne abbiamo attualmente 37 milioni in circolazione più un'altra dozzina tra trattori camion corriere motori eccetera insomma quasi una cinquantina di veicoli per motore a scoppio tutti hanno una batteria certo non è la batteria a litio certo non è quell'enormità di pacco batterie che hanno le auto meramente elettriche però anche un'auto a scoppio ha una sua bella batteria credo che ce la viate tutti presente soprattutto quando ci tocca andare a comprarne una nuova perché quella vecchia appunto si è si è esaurita e bene da decenni vengono riciclate queste batterie esiste in italia una serie di consorzi che si occupano appunto del riciclo e abbiamo quello sull'alluminio sul vetro sulla carta e cartone e abbiamo anche quello delle batterie il famoso per almeno per chi lo conosce cobat che recentemente diciamo ha cambiato anche non è adesso si chiama a cai comat e che appunto è il consorzio per la gestione delle batterie ora questo consorzio ha stipulato degli accordi per aumentare quella che sarà la capacità di vita da una parte delle batterie e poi soprattutto del riciclo allora perché dico aumentare la capacità si parla di seconda vita delle batterie dell'auto ma io adesso vi aggiungerò che esiste anche la terza perché l'automobile è il mezzo che più sfrutta la batteria nel senso che l'automobile vuole accelerazioni vuole moltissimo dalla batteria vuole avere tanta corrente non appena tocco l'acceleratore e quindi normalmente quando una auto elettrica comincia avere le batterie all'ottanta per cento della loro delle loro prestazioni già è il momento di cambiarla però la batteria ha ancora un 80 per cento di capacità e allora cosa succede la si recupera e la si utilizza per applicazioni meno stressanti che richiedono prestazioni un po più tranquille come per esempio negli edifici ormai molti molti di voi hanno il fotovoltaico con le batterie e verrà usato sempre di più e in questo caso la nostra abitazione non ha bisogno di prestazioni di salita della corrente così immediate come un'auto elettrica e quindi vanno bene per questa seconda vita nel residenziale quindi come sistemi di stoccaggio proprio in abitazioni chiamiamole normali per le famiglie normali dopodiché sarà possibile fare una terza vita cioè quando le batterie invece di avere l'ottanta per cento della loro capacità saranno a capacità ancora ridotta avranno perso ancora prestazioni ma non saranno ancora del tutto diciamo così esaurite morte allora li si stoccherà in pacchi ancora più grandi in armadi decisamente più grandi e potranno servire per fare stoccaggi cosiddetti industriali o al servizio appunto di fabbriche o al servizio proprio della rete dove anche lì la diminuzione e l'aumento di corrente non richiede prestazioni così stressanti come su batterie nuove e quindi ecco che abbiamo aumentato di parecchio la vita utile delle batterie ma come vedete ci sono moltissime iniziative assolutamente in corso per il riciclo come vedete qui il consorzio Cobat ha scusate ho cliccato il pulsante sbagliato ha stretto un accordo con classe onlus Anfia che è l'associazione nazionale filiera industriale automobilistica innova hub stazioni sperimentali enel comau che è una grossissima azienda di elettronica l'università politecnico di morì di milano rse di cui vi ho parlato diverse volte spiegandovi che è un ente 100 per cento pubblico 100 per cento pubblico che fa esclusivamente ricerca sull'energia infatti rse significa ricerca sistema energetico quindi è un ente 100 per cento pubblico io andai a trovarlo sono andato due volte è come un paesotto è grande come un paesotto perché ha bisogno di parecchio spazio per tutte le sue sperimentazioni che vengono fatte anche sul campo proprio non proprio sperimentate diciamo nella vita reale e appunto è un ente 100 per cento pubblico non solo c'è questo progetto come vedete molto bene strutturato abbiamo anche il cnr ancora una volta che ugualmente con coba sta portando avanti un brevetto per il trattamento delle batterie in questo caso per il riciclo per il riciclo poi abbiamo enel abbiamo enel che ugualmente è impegnata con un'altra azienda privata midac e sempre per il riciclaggio delle batterie quindi come vi dicevo ci sono praticamente tutte le grandi imprese che hanno investimenti vuoi nella progettazione e realizzazione di nuove tipologie di batterie nuove tipologie di batterie si parla del grafene si parla di di tantissime possibilità appunto con nuovi elementi chimici e poi c'è tutta la fase invece appunto di riciclaggio e anche qui le cose si stanno muovendo molto rapidamente in italia da alcuni mesi è operativa una azienda nata diciamo appunto da poco che è la prima in italia e la terza in europa che costruisce le batterie partendo da zero partendo cioè proprio dal litio in forma così in forma primitiva quindi non comprando il semilavorato dalla dalla cina le celle ma proprio partendo diciamo dalla dalla base e questa nuova iniziativa sta sviluppando anch'essa la fase di riciclo quindi il messaggio è così come da decenni ricicliamo le batterie che già ci sono nelle automobili a scoppio più tutte le altre batterie per i telecomandi per i vari altri radiomestici che usiamo ricicleremo senza altro anche le batterie a litio se non però amor di ambiente per il fatto che costerà meno procurarsi questa materia prima rispetto al fatto di scavarla da una miniera o recuperarla comunque dal materiale grezzo e proprio su questo argomento quindi sulle materie prime sul riciclaggio vi consiglio caldissimamente di questo video sempre del professor armaroli che spiega in mezz'oretta abbondante con una serie di diapositive la situazione delle materie prime a livello globale io adesso vi faccio un privissimissimo riassunto poi vi lascio il link di esorto andarvelo a visionare assieme ai vostri figli ipoti eccetera eccetera perché sono informazioni essenziali sapere quanta materia prima abbiamo dove è dislocata che disponibilità che concentrazione la facilità di raffinarla e quindi utilizzarla per i nostri scopi la facilità di riciclarla e intanto parto dalla fine con questo dato sempre parte appunto del video di cui vi sto parlando di nicolar maroli e come vedete attualmente abbiamo una circolarità quindi un riciclo a livello globale basso 9 neanche 9 per cento quindi veramente abbiamo enormi spazi e questa è una prima considerazione cioè se noi da quel 9 per cento riusciamo a passare al 20 30 40 50 60 avremo proporzionalmente molto meno bisogno di materia prima cosiddetta vergine nuova di stecca prelevata dalle dalle miniere vi ricorderete che in un video precedente vi ho fatto vedere qualche secondo di quegli enormi enormi escavatori da miniera a cielo aperto che pesano migliaia di tonnellate sono grandi decine di metri hanno queste queste benne enormi da da due metri di larghezza per scavare appunto migliaia di tonnellate di materiale e adesso vedremo che cosa effettivamente si scava perché una delle principali obiezioni che si fa alla transizione energetica è non abbiamo abbastanza materiale è falso il professor al maroli non ha detto velocemente ma io vi faccio subito vedere quelli che sono i dati del world economic forum quindi non stiamo parlando di chiacchiere da bar ma del world economic forum che non credo che ci sia bisogno di un grande inglese per per tradurlo e questo è come si dice un immagine vale mille parole e questa è la realtà attuale da diversi anni ormai i dati cambiano un pochino ma sostanzialmente vedete il grossissimo cubo alla sinistra color ferro perché è il minerale di ferro ogni anno si estraggono due miliardi e 600 milioni di ghiaglione di materiale la roccia la roccia per estrarre poi il ferro da all'interno di questa roccia due milioni e 600 due miliardi scusate 600 milioni di tonnellate una cifra enorme che si vede appunto a colpo d'occhio essere spaventosamente maggiore di tutto il resto quindi innanzitutto partiamo da questo dato cioè che già oggi si escava moltissimo per altri utilizzi perché il ferro viene utilizzato pochissimo per le batterie e per altri impieghi diciamo così di elettronica il ferro viene utilizzato soprattutto per fare l'acciaio e per fare tutte le applicazioni diciamo così tradizionali che facciamo da secoli con il ferro il secondo gruppo che vedete diciamo al centro c'è circa una decina di elementi visibili in realtà sono un po' di più sono 15 16 e sono i metalli diciamo così industriali anche in questo caso metalli che utilizziamo così da moltissimo tempo e che non hanno affare con l'ultima rivoluzione tecnologica informatica e delle energie rinnovabili che è il gruppetto tutto sulla destra quello più piccolo quello che vedete molto piccolo si fa fatica anche a leggere ecco il gruppo centrale vedete c'è e ve lo dico io c'è l'alluminio mi avvicino per leggere meglio c'è il tromo c'è il manganese c'è il rame c'è il titanio il piombo il nickel gli altri non riesco a leggere perché sono piccoli dopo di che andiamo sul gruppetto quello appunto di estrema destra e come vedete le quantità sono estremamente più basse e lì abbiamo i metalli diciamo così quelli di ultima moda dal manganese al cobalto appunto al litio al gallio e i metalli insomma che ci servono i materiali che ci servono appunto per le energie rinnovabili per le batterie per tutta questa nuova ondata appunto di impieghi elettronici e quindi la parte di transizione energetica ecco quindi come vedete la situazione è un po capovolta noi estraiamo enorme quantità in più per altri utilizzi per altri utilizzi non per diciamo per i fabbisogni delle fonti rinnovabili ma per utilizzi decisamente diciamo così più vecchi sempre nel video che vi riportavo questa è la tavola periodica che molti hanno studiato in chimica però pesantemente modificata in base alla alla disponibilità di materiale e alla facilità di avere quel tipo di materiale diciamo che ovviamente alcuni minerali alcuni materiali sono difficili da estrarre ma non così difficili da impedire appunto la transizione ecologica e energetica e lo spiega appunto più approfonditamente al marone in questo video io mi limito a darvi la conclusione finale la conclusione finale non è un problema di estrazione di quantitativi di questo di questo minerale un esempio pratico mi è rimasto in mente ascoltando questo video spero ascolterete anche voi l'elio di cui se ne parla pochissimo perché è per impieghi specialistici a parte i palloncini per bambini che appunto contengono l'elio per le feste ma c'è un impiego molto diciamo più serio e diciamo cruciale che è quello nelle risonanze magnetiche che molti di noi hanno fatto o faranno anche se vi auguro tutta la salute di questo mondo ma appunto per far funzionare determinati tipi di macchinari che hanno componenti che devono funzionare a bassissime temperature l'elio è il prodotto migliore per raggiungere queste bassissime temperature però elio ce n'è poco ce n'è veramente poco e una volta utilizzato si disperde in atmosfera e ciao ciao proprio della serie ciao ciao non lo vediamo più perché va proprio nello spazio e non lo recuperiamo più e di questo ne abbiamo talmente poco che con la recente crisi dovuta ai covid sapete che saltarono molte catene di approvvigionamento molti paesi via di sviluppo diciamola chiaramente paesi poveri purtroppo hanno dovuto dismettere laboratori di ricerca in cui ugualmente si usa l'elio per ricerca per fare ricerca per diciamo così osservare le molecole e il loro comportamento la loro struttura l'elio prima è salito molto di prezzo e poi non si trova quindi banalmente i mass media ci parlano sempre di questo benedetto litio quando in realtà abbiamo un problema più impressante immediato che quello dell'elio che ce n'è veramente poco nel nostro pianeta lo utilizziamo appunto per motivi medici e scientifici e nei prossimi decenni sarà un problema averne in quantità sufficiente detto questo invece vediamo un altro e anche l'ultimo per oggi aspetto legato alle famose terre rare ora lo spiega sempre nel video che vi invito a guardare le terre rare non sono il litio il cobalto di cui si parla appunto non correttamente ma sono una classe proprio specifica di elementi e non si chiamano terre rare perché è così difficile trovarle ma il problema è che la loro densità per metro cubo di materiale scavato è molto molto bassa è molto molto bassa per cui bisogna scavare e processare e raffinare grandi quantità per ricavare invece i materiali che ci servono ripeto sono abbastanza distribuite anche se no correggo sono soprattutto in cina effettivamente ma non sono così rare il problema è che appunto sono maledettamente diluite sono molto molto diluite però attenzione come al solito i giornali ci dicono e non ci sono delle terre rare siamo a rischio di transizione energetica di fare appunto questa transizione però attenzione perché da molti anni terre rare si usano per altri scopi come vedete nel cerchio di sinistra il 62 per cento dell'utilizzo delle terre rare che da anni si fa non ha niente a che vedere quelle rinnovabili quindi le terre rare si continueranno a estrarre e a raffinare se non altro perché servono per le raffinerie per le marmitte catalitiche dei nostri automobili per impieghi nell'industria chimica e poi per altri impieghi industriali naturalmente servono anche servono anche nei nell'elettronica e nella transizione energetica quindi per esempio appunto lo smartphone come vedete ne ha diversi di questi in questi materiali e serviranno naturalmente anche in parte per produrre e stoccare le fonti di energia rinnovabile però ripeto non c'è nessuna situazione di emergenza perché già adesso già da molti anni questi materiali vengono estratti per essere utilizzati al 62 per cento in impieghi che non hanno niente a che vedere appunto con le fonti rinnovabili o lo stoccaggio delle fonti rinnovabili quindi la filiera c'è già la filiera c'è già certo c'è soprattutto in Cina ma a maggior ragione noi dobbiamo aumentare quella quota di riciclo che a livello globale è l'8,9 per cento quindi una percentuale molto bassa e in una precedente puntata vi avevo specificato appunto che anche a livello di RAE i rifiuti da parecchi elettrici elettronici è una percentuale di riciclo inferiore al 40 per cento quindi abbiamo spazi molto ampi di migliorare questo riciclaggio per andare a riprenderci questi materiali che sono nostri perché quando abbiamo comprato uno smartphone o pannelli fotovoltaici o paleoliche o batterie o batterie sono nostre sono nostre quindi non ha nessun senso né ambientale né economico andare a dotarle via ricicliamole come facciamo per la carta per il vetro per l'alluminio e già appunto per le batterie quelle delle automobili diciamo a scoppio batteria il piombo che appunto ricicliamo da diversi decenni ecco queste sono la sintesi della situazione attuale vi metto il link al video ulteriore del professor amaroli però io comunque vi ho fatto la sintesi e spero di avervi spiegato come appunto non è un problema quantitativo è il fatto di poter proseguire con la transizione energetica quindi grazie a tutti e arrivederci alla prossima puntata